Un'altra storia di chi pretende sapere mai pur avvierai di passione c'è un campan per te quante le rasai impossibile da me di chi vuole si scurtà mia d'ora e d'ora appena ogni mi dote l'ombra di petar di verrà ma ne kati ne allah xehas i su xehas e e me na mi nekri ma na peirnai No, 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 no Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione